Ok, un felice, un felice, un felice, un felice a tardi, pa turmi televidenti oientenam tambe, umbiamas possibido Stephen Cristina, nos acinanostabe uac eichalac un tema tambe sumamente interessante, manemos mire, nostabeque, gis un japa di tema intitulà ora cu e porta dal sera, un da nos lo ta, alright? Un tema sumamente interessante tambe, pa ora nos mire sacchi, nostabai d'ingiè, pa nos por un double check tambe, stabai d'un tiki tempo, pa nos poderso reagis un partiti di tema tambe, qualt'ho pi importante, avvenuci, dus, am l'anso arriva screen rapidamente e nostra mira e texto di memoria. Ok, per me, conos vai d'ingiè, logicamente, nostabai d'un palavra di orasión, pa si na e dios por den e quadro e guianos d'ingiè. Vamos reza. Tara di amor, nel momento inaki senyor, conos te gis vai d'un parte cortico di meditacion di vua palavra, guianos. Mientras, conos ta ave scriptura, assin el señor cortico, per den cortico tog, nos por saca algo, un cominda espiritual, pa venuci, prome conos trumi. Compañanos, papi conos, nostra pidi de nome di Iesus. Amén. Ok. Dues ave, mani os mira e ribe la pantalla tambe, e teme titola, ora cu e porta dal sera, un da nos lota. All right. Dues nos tabai, e ribe text di memoria. E teme titola tambe, e text di memoria, teme titola, di Matteo 24. Matteo 24 tambe, versículo 37, te cu 39, teme titola. Pa sombra, e ribe dihende lota, o mio visa, e binida di ribe de lota mescos ku e diyanan di noe. Pa sombra, mescos ku denge diyanan ei ku tavata prome ku e deluvio. Nan tavata come e bebe, e nan tavata casa e duna pa casa. Te dia ku noe abing denge arca. e non comprende ora che il diluvio e il bianco e il bianco e venite di aiuto di gente lo sta ora non si guarda qui mi querido televidente oyente, radio, escuchen ora non si guarda la Biblioteca di Matteo 24 37 39 la condizione di il mondo di qui di noi però è una referenza visando che il nostro tempo lo sta mesco di noi ora ora non si guarda la condizione ora non si guarda Génesis e guarda la condizione di ripetire il nostro tempo non si guarda la condizione non si guarda la condizione non si guarda la condizione di noi di noi non si guarda la condizione non si guarda la condizione di noi non si guarda la condizione di noi il nostro tempo il nostro tempo che bebe il divisa nos e divisa nos stanno in versicolo 8 e divisa i oraco e bing e lo kiko convence mondo di pica di justizia e di vizio si di pica persona non ti chiede di me, di justizia persona mi ti vai cerca e tata e posso non ti mirami mas, e di vizio persona è prensa di il mondo qui, ti guardo vizio, ora che il spirito viva il divisa nos, e sta convence nos ora che il spirito di Dio viene, e lo viene, per certo, e su se viva, quando lo ha mandato, e lo ha mandato ora, il spirito ha che ti ha di convence gente, pa toma decision, correcto pa gente por viva conforme Dio su volontà il spirito ha che ti dà qualità e caratter e il spirito è preparato di noi, per noi per noi per alcanza vita e terra però immaginavo ave, mi querido famiglia ora che il spirito già non ti papia mas ora il spirito non ti papia, di un po' mas, ma ti chiede di un po' condizioni lo ti vai in cambio e tol mas di un po' 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è 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 www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 5 ok 2 Pedro versicolo 5 E non aspar il mondo antico E non aspar il mondo antico Ma appreserva 9 di con Di con è la appreserva 9 Non sapeva che Non sapeva di con è la appreserva 9 Ok per noi E' la visa un predicatore di Kiko Justicia Junto con 7 e 8 persone Ora che la 13 deluvio Rive il mondo E' imponente Dio a appreserva 9 Kiko 9 sta a predicar Justicia Kiko Espiritu di Dio Sta a revela a nos Over di justicia E lei E justicia E mensaje Aki Nostra mira Kiko Dio sta Na inglese Rijusness Ok Right doing Hacimento Di lo Che sta Correto All right Dio's Génesis Ora Nostra mira Di con Dio Se preserva 9 Den un tempo Manera Ese E tempo E mundo No tava Tamiyo Maldat So tava Da reina Pero Dio's Dio's Dentura Se Versiculo 8 Di Génesis 6 Da Bisa Ma Noe Hanya Gracia Den Bista Di Senyor Right E lo Puntra Steven Pero di Con Net Noe Di Con Simplemente Noe Di Con Noe Tanya Gracia E O Tanya Noe Well Aki Na Noe Sabe Mire Posto De Versiculo 9 Da Bisa Sake Da Generación Di Noe Noe Tava Tava Con Gusto Con Noe Tava Data Gusto Kike Tava Data De Bisa Kama Perfecto Disa Dentura Saya Dens Su Generación Noe Tava Tava Kana Kudios Se Cap Té Kamei Noe Tava Data Un Perfecto Kiko Mas Gusto Kiko Mas Tava Dasi Kana Kudios De Bisa Dib Versiculo 8 Que Lange Con Gracia De Bisa Bisa Nos Pedro Bisa che Dio a preservare Noe. C'è un predicatore di justiia. E pregunte a lui, se Dio a bisar, non so arriva a scrivere, per la sombra e venire di aiuto di gente, non ci sono più cose che ci sono di Noe. Voi? Per la sombra più cose che ci sono di Noe e che ci sono di promesso e di lucio, non ci sono di come e di bebe e non ci sono di casa e di una per casa, che Dio Noe abbia di gente arca e non ci sono di comprendere ora che il deluvio abbia e abbia con l'antur la scena e venire di aiuto di gente lotare. Non so capite, mi querida famiglia, Dio ave, bopor ragnabudin e setin. Qua setin? E setin cammino ora che da rechassare e boz di Dio. Ora che Dio è papia e non è un'assurdo. Ora Dio è papia e non dice e non dice che c'è il tuo corso duro. Che va non dice? No, ha si il tuo corso duro. Right? Dio ave, il mio querido famiglia, Dio ave, e non ci sono di comprendere che Dio sta facendo la sua ultima chiamata. Dio, per me dire il messaggio finale, il messaggio 3 angoli, Dio sta chiamando gente nel arrepentimento, gente per ascoltare la voce di Dio. e ti diceva, se non sa che il carino di Dio che c'è il rischio di Dio che è il rischio di Dio. che mentre Dio in suo amore, guarda, in suo amore, rivelazione capítulo 3, dicevo, Dio sta reprendere non che ti stima. Dio ave, si vato consideravo mes un stima di Dio. Ave, si vato consideravo mes un unghi di Dio. Ave, si vato consideravo mes e preti ovo di Dio sabe, che Dio di Dio di Dio di Dio di Dio di Dio di Dio disciplinavo. Mestri riprendevo di con pa sombra e che trecevo ribepad corretto e pat caminda e poguiavo na salvaxion. Per me, Juan 2, 6, dicevo, e sunco tabisa che ti permanece dentro di Mester cana tambi manera il a cana. 1 Juan 2, 6. Dio ave, mi querido famiglia. Right? Dio tiki tempo hake come por akita foi bo. Taba bo comprande pa Dio no hayabu din condicion di antidiluvian sino con din condicion di noe. Vaque? Vostoi antidiluvian na acera na oreja pa espiritu. E espiritu finalmente no por convencer namaz di con pa sombra na queda rechaza 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 dios pa beco hende mostrava caminda pero Yeremia 6 16 termina avisando nan di nos no quer cana den je mas simplemente dios te vise si bo cana den je lo ba con descanso pa bo so alma. Dio ave nos mira finalmente onde esta rechaza espiritu. Esta rechaza na indescanso esta rechaza na queda cansá cansá de kiko cansá de pika e ave voz di dios te visa tur kiko te cansá y carga pince camí y lo bo haña descanso ave pa bo alma. Bo kiko dios e mostrado ave. Ok? E descanso pa bo alma dios kiko nabe pero ta abo tindis koe si bo kere. E prome kese imi tabai termina haciendo orashon. E nos beri sap et ma cortico aki kisaz tu ene kou dios ta pab kone ave. Kisaz tu ene kou dios taz yamada riva di ave e bote entregar vok rassong a dios. Right? Nostou pute riva pantaya tam e min sora min nombri telefong et sale bo denge bal kikora kutak kore kuh letter blanco. Ok? Bo ap me si bo kion orashon special. Bo ap me si bote deseya bible studi. Bo ap me si bote bise well mi kere bay iglesia min no sa un de pabai pa adora well llamami ap me ok mi si min po kue telefon bote ap mi home mi te contestavo right? Manera mi te liber despe se ave nos te ba resa la un set in pa nos por resa nos ba nos cabez cammina nos ta ave noche tarde de amor kubo nomer sea santifica ave senyor e tema aqui nos nos sa pa keng ta pero ti un hende si senyor ko lo has y bon uso dia palabra nan aqui pasina ei senyor que hende aqui kaming ta e po entrega su vida senyor sabiendo ko no tin opi tempo mas no tin tempo mas pa duda entre dos desisyon si ta balta nos dios sirvie no tuk menino sirvie mas si dios adoré e sirvie e te sei si tuk meninos pa sirvi abo e sun kreya xe litera la man e fuente nan diawa o dios dios tato to corazon ni momento nan aqui camin de vidio aqui llega senyor touch e corazon pa sin hende aqui senyor por guardo moldear e corazon di piedra guardo quitar e hende pod decidir senyor ko avet dia di salvashon e no que guarda mas e quita manere nuco ko despes di arraña e mensaje abisa ata awa aqui kiko abah junto kune il abordo bautizade en nome di etata yu espiritu santo pese ave senyor no sta sumamente contento con nos por apara presentare mensaje e seguibai ko dios senyor ko bo ben chan a cad un ende ko risibi el video aqui cad un ende ko a play foi comienzo ten final kue a palabra na ki po preneta profundo de amén mi querido familia ko dios ben chanavo ok stay chun nos vengo mas dia tema nan cortico mas dia tema nan aqui e dios lo siga si cos sangran chau itos o mesavo sirvido steven christina stay chun pa mas si bo que mas app mi nostre mande video nan na ordo bon kue dios ben chanavo si que ten em de oración pa dios si po inspirami pa sin em por presentar a palabra dios bon chau vidio chau vidio